Mani va alla Land Rover e li infulta tutti, cioè mi avete venduto una macchina che doveva essere imbattibile Ti prendessi una macchina decente invece di quella di Olio Staglio, guarda lì Ma è bello perché non è né ripida né lunga quella salita lì Però ce l'ha fatica Ci è andato il vecchio Toyota, tranquillo